Termina a reti inviolate la gara infrasettimanale tra Sapri Calcio e Apice Calcio, disputata nel pomeriggio di ieri al Matteo Covone di Sapri. Nonostante numerosi tentativi, i ragazzi di Mister Graziani non riescono a sfondare il muro avversario e ad insaccare la palla che poteva regalare altri tre punti preziosi per il Sapri Calcio. Una gara disputata però in difficoltà, in particolare a partire dall'inizio del secondo tempo, quando il neoacquisto Brunetti-Diez Santiago colpisce l'avversario in maniera dura ed è stato punito dall'arbitro con un cartellino rosso, lasciando così i compagni in dieci uomini. Esordio amaro dunque per il giocatore degli azzurro-bianchi. Nelle difficoltà in ogni caso la squadra ha risposto bene alle indicazioni di Mister Carlo Graziani che contro l'apice puntava sulle ripartenze per riuscire ad accaparrarsi tre punti in palio. Un obiettivo che però non è stato facile da raggiungere per l'assenza in area del giocatore pronto ad insaccare. Il Sapri Calcio comunque riesce a concedere poco o nulla agli avversari che nonostante abbiano tentato in più occasioni di sbloccare il risultato si sono ritrovati di fronte a una difesa attenta. Anche la difesa degli avversari ha lasciato poco spazio però ai padroni di casa che non sono riusciti ad essere incisivi in avanti. Nonostante la gara sia stata disputata con turno infrasettimanale, il pubblico del Matteo Covone, i supporter del Sapri Calcio, non sono mancati ed hanno fatto sentire forte il loro calore anche nella gara che si è disputata ieri, mercoledì 17 gennaio, e che è terminata con il punteggio di 0 a 0. Un punto comunque prezioso per la classifica che vede ora il Sapri raggiungere quota 23 punti, anche se non ancora sufficienti per potersi garantire la sicura permanenza in campionato nonostante la qualità dimostrata in campo.